La bella PM, la bella PM e quel porco, la bella PM, bella, la bella, pubblico ministero, bella, 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 e quel porco, quel porco, il porco, un porco, sì, sì, anzi, lei lo chiama il porco di Firenze, il porco di Firenze, io la notizia la leggo, io la notizia la leggo e ve la metto come l'ingre assunto di questo video, la bella PM, bella, bella PM, bella, quanto è bella questa PM, e Dio quanto è bella, accanto sei bella PM, pubblico ministero, si chiama Alessia Sinatra, c'è un articolo, Alessia Sinatra, che sarebbe stata ripetutamente insidiata da un potentissimo procuratore, un potentissimo procuratore, un potentissimo procuratore, che si chiama Creazzo, lei lo definisce il porco di Firenze, il porco di Firenze, sì, sì, lo definisce così, questo potentissimo procuratore a Firenze, tra l'altro, voleva mettere sotto processo Matteo Renzi, c'è scritto così qua, e adesso però c'è una questione giudiziaria che riguarda questa bella, bella, bella PM, bella PM, bella PM, bella PM, Dio quanto è bella, Alessia Sinatra, c'è una questione giudiziaria tra Alessia Sinatra, Alessia Sinatra, pubblico ministero, e quello che lei definisce il porco di Firenze, che sarebbe un potentissimo procuratore, che si chiama Creazzo, Creazzo, è un fatto complesso, un fatto complesso, perché Creazzo, potentissimo procuratore, voleva mettere sotto processo, voleva far condannare Matteo Renzi, e invece adesso si trova, oppure lui, diciamo così, sotto l'occhio della ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-magistratura, e anche sotto l'occhio del consiglio sul progetto della magistratura ma cosa ti vai a mettere con una collega a PM ma cosa ti vai a mettere con una collega e crea insomma perché ti vai a mettere con una ci provi con una potente collega dai lo sai com'è la questione dai ma chissà quante altre possibilità avevi chissà quante altre possibilità avevi potentissimo procuratore Creazzo dai senti procuratore Creazzo guarda che io ti capisco ti posso pure capire perché io sono l'autore di quest'opera storico-mitologica e caro procuratore Creazzo io sono stato professore di filosofia e storica nei licei classici scientifici e poi sono stato pure preside di ruolo nei licei classici scientifici e ho scritto tante tante opere questa è la mia ultima opera caro procuratore Creazzo se tu mi trai il tuo preciso ricapito postale procuratore Creazzo io ti farò pervenire a mie spese una copia di quest'opera storico-mitologica che ti spiega come è venuto il passaggio dal matriarcato al patriarcato ovviamente ovviamente questo vale anche per la bella bella, bella, bella bella, bella, bella bella PM beh Dio quanto sei bella PM Dio Alessia Sinatra vale anche per Alessia Sinatra anche alla bellissima Alessia Sinatra se mi farà pervenire il suo preciso ricapito postale io farò pervenire a mie complete spese una copia di quest'opera storico-mitologica ok cari amici ok ok a tutti tanti cari saluti da Serafino Massoni che per chi non lo conosce è questo qua eccolo qua Serafino Massoni ok 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 ok